diretta dal pallaroller anche in questo caso con Dacocca e Sbaglia allora ne può approfittare Gimeno conclusione la palla rimane lì e entra in porta errore del Sbaglia però il passaggio in qualche modo recupera ma la più lesta di tutti è Pinto poi Berti e il gol di Montoni, palla che rimane lì Modena si salva ancora Gimeno arriva il fischio Gimeno e il gol